I giudici del Tribunale del Riesame tra sei giorni si prevede che pronunceranno il verdetto sul sequestro delle fonderie Pisano. I giudici del collegio preseduto da Gaetano Sgroia dovranno valutare il nuovo provvedimento di sequestro presentato dalla Procura dopo il rinvio dello stesso provvedimento al Riesame. Bisognerà aspettare fino a lunedì prossimo per vedere il colore della fumata, ma intanto in due giorni sono state già raccolte 3.000 firme per dire no alle fonderie dal comitato Difendiamo Buccino in vista della dislocazione nel borgo dell'Alto Sele. Un rifiuto confermato è sottoscritto anche dai sindaci della comunità montana del Vallo di Diano come è già successo per la comunità montana Alburni e per il Parco del Celento.